Sono Carla Carfagna e nella vita ho avuto la sfortuna di saper fare tante cose. Avete presente quando qualcuno vi dice non avrei potuto fare altro che il medico oppure se non avessi fatto il cantante che cosa avrei potuto fare? Niente? Beh, questo non è il mio caso. Sono stata una bambina molto precoce nel camminare e ho scoperto presto di aver ricevuto in dono un grandissimo talento. Ero molto dotata per la danza. Ho studiato danza classica, moderna, jazz e poi anche pianoforte. Nel frattempo mi sono diplomata al liceo classico e poi laureata a Napoli, la mia città, in lingua e letteratura straniere all'orientale, inglese, russo e spagnolo. Non appena mi sono trasferita a Roma, ormai 24 anni fa, ho cominciato a studiare recitazione. Ho iniziato dal teatro, di cui mi sono innamorata grazie alle opere di Edoardo De Filippo. Quando da bambina sognavo di abitare le scenografie dei suoi spettacoli e ammiravo le attrici e gli attori e ascoltavo con grandissimo interesse i loro racconti e le loro storie in scena. Quando devo preparare un ruolo mi piace sempre approfondire lo studio del personaggio, ricordandomi che si tratta di una persona prima che di un personaggio. E se state guardando questo video è perché qualche anno fa ho deciso di lasciare il mio lavoro sicuro, mi sono occupata di marketing, formazione e comunicazione per fare solo l'attrice. Mi sento davvero fortunata per aver avuto l'opportunità di lavorare con registi come Cristina Comincini, Simone Godano, Piero Messina, Brando De Sica e Ivan Cotroneo nella serie di prossima uscita La vita che volevi. Ed era proprio questa la vita che volevo. Alla fine ho scelto col cuore.